Mi porto a fare un giro in moto con me andando dalla dura di passeggio Questi sono i fantastici dorsi che trovate in ogni dove Qui siamo praticamente sulla strada che porta all'Ostocones Questi sono gli abitati che ci sono sulla strada per arrivare all'Ostocones Sono piccoli gruppi di case sempre con un mercato Queste sono le buchine che ci trovano nella strada Che tra l'altro il manto è sempre abbastanza valido E poi interrotto da queste, come vedete, queste buchine Da niente che se ci entri ti spacci in quattro Voila Voila Stanno bruciando, ecco, queste bruciano rimondizia purtroppo Qua si usa così E non è una bella cosa Ovviamente produce diossina E non fa un granché bene Né alle persone né all'ambiente apparci del metro So Mah Wait Please volontario